C'è già un'insofra di B! Ci vediamo al traguardo! Giava, blocca il percorso C! Ferma il folletto dei B.B. Ti ringrazio. Dov'è Ibiki? Non lo so proprio. Come al solito, fa ciò che gli pare. Nel Tokyo Battle, cuore l'intraprendenza è fondamentale. Sì, ma la sfida è tra squadre composte da cinque persone. Se il giocatore sparisce... Abbiamo bloccato nel pitch 14! Quante insistenti! Le bolle vaganti! Idiota! Tieni duro, Usagi! Oh no! La fossa delle larve! B.B. è caduto. Potete intervenire? Andiamo! Non arriveremo mai in tempo!